In che modo i medici usano una risonanza magnetica per il tumore al seno? L'imaging a risonanza magnetica, risonanza magnetica, è una scansione che a volte viene utilizzata per il rilevamento del cancro al seno. L'utilizzo della risonanza magnetica per il tumore al seno a pro e contro, e ogni medico o centro medico può avere procedure di test individuali che vengono utilizzate. Test aggiuntivi vengono spesso eseguiti insieme a una risonanza magnetica per il rilevamento del carcinoma mammario e talvolta non viene utilizzata alcuna immagine di risonanza magnetica. Ci sono una miriade di modi in cui i medici possono testare il cancro al seno e altri tumori maligni all'interno del corpo. L'utilizzo di una risonanza magnetica per il rilevamento del cancro al seno non è sempre la prima scelta, ma può essere utilizzato quando altri test hanno dato risultati inconcludenti. A volte una scansione di risonanza magnetica riprende il tessuto del cancro al seno durante un altro esame per una condizione medica non correlata. Anche se non sempre è ampiamente utilizzato, l'esecuzione di una risonanza magnetica per il rilevamento del carcinoma mammario ha dei benefici. È una tecnologia sensibile in grado di rilevare anche piccoli tumori. Lo svantaggio principale è che una risonanza magnetica non può differenziare tra tumori e altre masse innocue all'interno del tessuto mammario. Questo può portare a diagnosi errate del cancro e biopsie aggiuntive e altri test che non sarebbero stati necessari utilizzando un'altra procedura di test. Esistono tecnologie emergenti che combinano la sensibilità di una risonanza magnetica con le onde sonore al fine di determinare la dimensione e il tipo di tessute all'interno del seno. Ciò renderebbe più efficiente l'uso della risonanza magnetica per lo screening del cancro al seno e consentirebbe ai pazienti di evitare lo stress di avere risultati falsi positivi. L'uso della risonanza magnetica nella rilevazione del carcinoma mammario è più comune nelle donne che hanno seni densi, quelli che hanno avuto grumi rimossi dal seno in precedenza e quelli che hanno protesi mammarie. Procedure di test più convenzionali non sono sempre abbastanza sensibili da rilevare il cancro in queste donne. Una combinazione di test può essere utilizzata anche in questi casi. Se una scansione di risonanza magnetica si accumula su tessuti che sembrano potenzialmente cancerogeni, potrebbero essere necessarie procedure aggiuntive. Questo può includere ulteriori scansioni, ma più spesso verrà eseguita una biopsia. Una biopsia comporta la rimozione del tessuto dall'interno di un nodulo o massa in modo che possa essere studiato al microscopio. I medici sono quindi in grado di determinare se il tessuto è cancerogeno o di natura benigna. Sia i grumi cancerosi che quelli non cancerogeni appaiono simili quando si utilizza una scansione di risonanza magnetica.